consumatore, ma sono sogni, sono sogni che dobbiamo avere, perché se loro non ci fanno sognare, noi non li faremo dormire. Il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, sempre il lavoro, il lavoro, il lavoro è la più biega, è il più biega ricatto degli ultimi 50 anni il lavoro. Allora bisogna capire che cos'è il lavoro, tornerà quel lavoro lì, il lavoro non torna, la crescita toglie posti di lavoro, sta calando il lavoro, in tutto il mondo sta calando, oggi le banche vanno in internet con un decimo del personale, oggi l'acciaio lo fanno 35 mila persone e fanno 100 volte la produzione di acciaio negli Stati Uniti di 300 mila persone di dieci anni fa, che cos'è il lavoro? Andare in una miniera a cavare, abbiamo 100 miliardi, ho detto ma perché io mi incazzo così? Mi incazzo da solo che non c'è nessun motivo!